I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro hanno eseguito 20 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per traffico e lecito di rifiuti. Sei persone sono finite ai domiciliari, altre dieci sottoposte all'obbligo di dimora, quattro destinatari di divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa. Sequestrati anche un complesso immobiliare a destinazione industriale a Curinga, due impianti di recupero e trattamento rifiuti riconducibili a due distinte SRL, ad Amaroni nel Catanzarese e Cotronè in provincia di Crotone, per un valore complessivo di 4 milioni di euro. Nel Mirino l'attività delle tre società che si occupavano del trasporto di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata di comuni calabresi e siciliani e avevano lo scopo di ridurre il numero dei trasporti verso gli impianti di destinazione finale, caricando fino alla massima capienza gli automezzi, anche miscelando tipologie di rifiuto diverso per abbattere i costi connessi al servizio. La movimentazione dei rifiuti sarebbe avvenuta testando falsamente la ricezione e l'invio a trattamento di ingenti carichi, di cui si sarebbe fatta perdere la tracciabilità mediante la combustione o la distruzione, nonché con l'individuazione di impianti adibiti a discariche abusive nei quali i rifiuti venivano anche interrati.